Eccoci 11.12 tornati qui su www.stradio.it Nel frattempo il computer impazzisce ma noi andiamo avanti lo stesso Ritornare ad allenarsi offre l'opportunità di implementare il progetto della radio che era già esistente con tutte le altre attività che questo progetto ha messo in atto Abbiamo la collaborazione con un gruppo di formatori di Bologna, di Open Group che segue la formazione sia dei ragazzi sia dei docenti L'esperienza da radio mi piace moltissimo, ho sempre amato questa parte di tecnologia con l'audio messo assieme Mi ha portato a conoscere nuove persone e a imparare nuove cose Il gruppo credo sia un po' il punto di forza della radio perché è molto unito e ognuno trae vantaggio dal lavorare insieme agli altri A parte che si tratta di un laboratorio di continua esplorazione e continua creazione Ma quando siamo in sala si accendono i microfoni, chi sta dentro, chi sta fuori, si anzerano completamente le differenze E questo secondo me per i ragazzi che magari hanno qualche fragilità è fondamentale a livello relazionale e anche di acquisizione delle competenze L'obiettivo finale di questa attività è in primo luogo divertirsi e far divertire i ragazzi e poi far scoprire loro nuove opportunità di espressione e anche nuove opportunità lavorative Sì, mi piacerebbe molto fare diventare questa passione un lavoro e spero di riuscirci